Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 The time was 9, 13, 9, 17. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Less than one minute left of the game. After 18.47.7, number 13 in Eloraldición reduces to 3-3. Giustus Giustinen, assistive 521, only Carbion, and after Paul Kanner. Grazie.